La situazione è in evoluzione nella frana in via Renazia a Chieti e in modo positivo in un certo senso e questa è una buona notizia. Acqua che penetra da sopra, io penso sopra della vecchia Maiella, Santa Maria, Fonte Vecchia. Ma qui sopra ci sono abitazioni? Sì. La ditta che sta operando con i tecnici del comune di H, Genio Civile Protezione Civile, è riuscita a canalizzare il flusso di acqua che furiesce dal terreno facendola defluire quasi totalmente nella rete di raccolta. A valle dello smottamento come conseguenza la strada si sta asciugando. La situazione, avverte il sindaco di Goferrara, resta però delicata perché non si è ancora riusciti a capire la natura della fuoriuscita di acqua. Secondo le analisi dell'Arta non è acqua reflua e potrebbe essere acqua potabile o di falda. In ogni caso si agirà sulla messa in sicurezza del fronte attraverso interventi finalizzati a stabilizzare lo smottamento e ad irregimentare le acque. La terra si sta muovendo verso giù e ora c'è la ruspa che li sta un po' mantenendo. Dal confronto incrociato degli interventi e dell'analisi della situazione sulla frana sarà possibile stabilire se sia un episodio locale, quindi non collegato al fenomeno di dissesto che riguarda le altre aree erosovrastanti, via Renazze, via Granzasso, via Domminzoni, quelle che sono interessate anche da atti e ordinanze per la tutela della pubblica incolumità. Il comune ci ha dato l'autorizzazione per fabbricare quando a suo tempo poteva pure sapere che questo era il movimento di Stagardina. Su queste aree si intensificheranno monitoraggi e analisi per attivare interventi risolutivi e un tavolo di confronto e di decisioni permanente, annuncia Ferrara, lavorerà per programmare interventi necessari e di prevenzione delle situazioni più delicate e critiche. Un portavoce del tavolo informerà la città e la popolazione che risiede nei luoghi interessati dal dissesto idrogeologico su tutte le attività e le decisioni che verranno prese in itinere per risolvere il problema. Attraverso il riconoscimento dello stato di emergenza, richiesto proprio per l'aggravarsi della situazione della zona, il comune ha uno strumento per fare ricorso a risorse nazionali. L'ente, infatti, a causa del dissesto economico-finanziario, non ha e non può anticipare somme per gli interventi.